La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Così recita l'articolo 9 della nostra Costituzione. Questo è il punto di partenza per comprendere ed inquadrare l'auspicio che la gestione del patrimonio culturale italiano possa essere partecipata dal basso, con la mano pubblica di indirizzare un coinvolgimento dei cittadini. La matrice costituzionale ce la indica il professor Daniele Manacorda. Nella nostra carta fondamentale viene sancito che il compito di promuovere la cultura spette alla Repubblica, dunque non solamente allo Stato. Di questo si è discusso ieri in via Chiatamone, in una delle sedi dell'Università Orientale, in occasione dell'uscita dell'ultimo lavoro di Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero dei Beni Culturali. Il suo saggio, Un patrimonio italiano, beni culturali, paesaggi e cittadini, illustra criticità ed esempi virtuosi e si interroga appunto sul futuro del patrimonio culturale del bel paese. A confrontarsi sul tema insieme a Volpe c'erano la rettrice dell'Orientale, Elda Morlicchio, l'archeologo Daniele Manacorda e la professoressa Irene Bragantini. Perché chiude un ciclo? Perché è un libro che nasce da un'esperienza reale, cioè da un anno di presentazioni, di battiti che Volpe ha fatto in Italia per presentare un suo precedente volume, che era un volume dedicato a una proposta di riforma politica, di tanti aspetti della politica dei beni culturali. E da questa esperienza, in tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia, è venuto fuori un pezzo di paese che non chiede altro che di essere coinvolto nella gestione di questo patrimonio culturale. Non si aspetta che ci sia una mano pubblica che da sola decide, fa, manda per tutelare e valorizzare un patrimonio che, diciamoci la verità, non sarà mai sufficientemente tutelato unicamente dalla mano pubblica. Ci vuole, dice il libro, un'alleanza tra l'amministrazione e i cittadini. Bisogna mettere i cittadini in condizione di poter fare quello che vorrebbero fare, cioè dare una mano a gestire questo patrimonio.